E' già stata vedova, si è appena risposata e suo marito è già in carcere. Se i suoi figli continuano a frequentare i delinquenti, tranno la stessa fine, lo capisce? Lei ha figli? No. E allora si faccia i cazzi suoi. Ma che femmina sei che porti i miei figli e le mamme? Tu che madre sei? Che le mandi a morire ammazzate? Che cos'è l'amore? Lei lo sa?